Acerra celebra i prodotti tipici locali con Libera la Cultura. L'iniziativa si terrà dal 27 al 29 settembre in Piazza Castello ad Acerra con il patrocinio della Camera di Commercio di Napoli e dell'amministrazione comunale e locale. La valorizzazione dei prodotti tipici è l'obiettivo della Sagra dello Stoccafisso e del Baccalà che si terrà ad Acerra nell'ambito della manifestazione Libera la Cultura. Lo ha detto Mare Esposito, presidente dell'Accademia Campana per la promozione della cultura e del consumo dello Stoccafisso e del Baccalà che fa riferimento a Commercio e Imprese per l'Italia della provincia di Napoli guidata da Pietro Russo presentando la Kermesse. Ci saranno allestimenti di stand e un percorso che garantirà la promozione dei prodotti tipici. Poi una fase socio-culturale con momenti dedicate alla gastronomia. Stoccafisso e Baccalà saranno cucinati in tanti modi differenti e si potranno assaggiare in piazza con degustazioni guidate e passeggiate nel centro storico di Acerra in collaborazione con i ristoratori del territorio. Infine ci sarà la sezione dedicata al folklore e agli spettacoli di intrattenimento.